mi chiamo giuliano girelli sono in pensione da 21 anni con il grado di generale di divisione aerea sono entrato in accademia con il corso aquila terzo il 22 ottobre del 1962 dopodiché terminata l'accademia sono andato a lecce dove ho fatto il brevetto come sul mb 326 26 e successivamente ad ammendola con il g 91 t per il brevetto del pilota militare da lì sono stato assegnato al reparto al centocinquantaseisimo gruppo proveniente da ghedi in quel di gioia del colle in provincia di bari inizialmente ho volato al 156 il mio nominativo radio intanto era lince e come distintivo avevamo la testa di una di una lince il distintivo che portavamo sulla tuta il il primo velivolo del reparto è stato alle 84 f all'interno del 36esimo stormo e all'interno sempre le 36esimo stormo c'era anche la squadriglia collegamenti che mi ha permesso di fare il t 33 le reti 33 il t6 il sia il 208 dopodiché sono nel 71 è arrivato le f 104 s per cui sono stato inviato in quel di grosseto al ventesimo gruppo per conseguire il passaggio sulla macchina passaggio sulla macchina che è l'effetto del tf 104 g durata una una ventina di missioni dopodiché sono rientrato al reparto ho fatto la transizione sul nuovo velivolo le f 104 s che era una versione migliorata rispetto al g in quanto la differenza sostanziale diciamo era era tutta nel post bruciatore del velivolo altri ci sono altri particolari che lo lo definì lo differenziano dal 104 g però diciamo alla parte più importante perché mentre il 104 g aveva solamente come afterburner ci aveva solo la posizione di minimo e di massimo quindi si passava dal minimo al massimo senza una modulazione di potenza in questo tratto e mentre l'esse aveva la possibilità di modulare la potenza dal minimo al massimo come tutti gli acceleratori compresi quelle delle macchine ho cominciato a volare sull'esse per quattro anni nel 1904 anni e mezzo fino al 75 settembre del 75 nel 1973 c'è stata una importante esercitazione aerea in quel di gioia del colle dove io facevo avrei dovuto cioè facevo ho fatto la parte del del target supersonico tagge supersonico che dopo il decollo da gioia del colle doveva arrivare sulla verticale di bari da lì raggiungere la velocità che di mac 1 e 2 praticamente raggiunta nel momento in cui in salita mentre arrivavo sulla verticale di bari e poi da lì verso crotone e dovevo mantenere questa velocità il tempo era pessimo ed impeggioramento comunque io ero a 40 mila piedi ed ero diciamo quasi completamente fuori dalle nuvole e comunque non mi davano fastidio sono arrivato sulla verticale di crotone ho invertito la rotta ho ridotto la velocità ad un valore accettabile perché a 40 mila piedi considerate le ali che aveva 104 molto piccole e non certamente di profilo standard ma un profilo molto avanzato diciamo per cui pretendeva per volare per sostenere velivolo prevedeva che questo andasse a velocità superiori di quelle che normalmente si usano con i velivoli si usavano con i volivoli del momento il punto di ritorno doveva essere radiofaro di rocca imperiale sul rocca imperiale sono arrivato lì e il tempo nel frattempo era peggiorato moltissimo la base si era chiusa e se mi permette il termine tutti i velivoli che stavano rientrando in quel momento sono stati impacchettati sulla sulla verticale di rocca imperiale e io avevo quello che stava più in alto poiché la velocità di sostentamento era non era delle migliori praticamente mi mantenevo in quota usando ogni tanto il post bruciatore questo ha comportato un maggiore consumo di carburante perché la cosa doveva terminare in questo modo io arrivavo sulla verticale di rocca imperiale e avrei stato autorizzato alla tiraggio quasi immediato visto che avevo fatto una corsa supersonica dove rispetto agli altri ho consumato molto più carburante comunque il carburante che avevo ancora quando ero su rocca imperiale era di circa 1200 libbre che era il carburante giusto per arrivare ad atterrare gioia del colle e quindi sarebbero avanzati 6 o 700 800 800 libbre più o meno tutti quelli che erano sotto ha cominciato a essere dirottati verso altri aeroporti principale stato grosseto dopo dopo di che io non riuscivo a scendere e ho deciso di salutare tutti di andarmene verso brindisi che in quel momento era sufficientemente libero perché alcuni aeree erano stati dirottati anche su brindisi mi sono avvicinato a brindisi ho contattato l'avvicinamento e poi il gca mentre contattavo l'avvicinamento ho sentito che c'era un collega davanti dello stesso gruppo mio al quale ho chiesto quanto carburante avesse perché lui e lui mi ha detto che era 600 libri di carburante che erano la stessa quantitativo di carburante che avevo io a quel punto veramente io ne avevo un pochino in meno un po in meno però ho fatto due conti che se facevamo ritardare lui per mandare avanti io lui avrebbe consumato più carburante di quanto ne avrei consumato io aspettando a quel punto lui ha tenato e io avevo chiesto al gca di fare un gca stretto che significa significa un gca che mi permetteva di accorciare le distanze dei bracci del circuito mi sarebbero bastati l'accorciare un braccio soltanto di un miglio l'altro si sarebbe accorciato di un altro miglio e avrei guadagnato due miglia se non che la c'era un plafond delle nuvole che sta da sui 900 piedi e non vedevo il terreno però c'era una mappa luminosa della del terreno sotto sottostante per cui vedevo brindisi vedevo il petro il petro chimico sulla destra e naturalmente e gli altri paesetti che stavano vicino erano delle macchie luminose che si vedevano sullo strato di nubi a quel punto deciso di mantenermi molto sulla destra e di passare verso vicino al mare su bagnasciuga diciamo lungo la costa per evitare nel caso mi fosse dovuto avesse dovuto abbandonare il velivolo evitare che questo cadesse sul petrol chimico cosa che avrebbe procurato seri guai a questo punto superato il petrol chimico sono rientrato verso sinistra per allinearmi con la pista che ormai era in vista perché al di sotto di 900 piedi la vedevo ero sul sentiero del gca ad un miglio di distanza e 300 piedi di quota quando il il motore ha smesso di funzionare in quanto il carburante era terminato pur segnando ancora l'indicatore carburante 200 libri ecco perché prima dicevo se avessi accorciato un braccio di un miglio avrei guadagnato esattamente quel miglio e un altro è un altro pochino che mi avrebbe permesso di mettere poggiare le ruote a terra sulla testata pista dell'aeroporto di brindisi e quindi arrivare in fondopista probabilmente con lo spegnimento del motore al termine della pista stessa senza poter uscire naturalmente però il motore ha deciso di lasciarmi in quel punto e io mi sono lanciato praticamente come ho detto a 300 piedi sul sentiero a un miglio di distanza dalla testata pista e poco prima del del mare che della parte di mare che c'era tra me e la testata pista il velivolo ha continuato per i fatti suoi ed è si è infilato nel tratto di mare davanti alla testata pista io invece sono senso col paracadute e ho guardato sono riuscito a vedere verso terra guardare verso terra per vedere se sarei caduto in mare oppure in su terra a quel punto detto terra e non ho fatto le manovre che avrei dovuto fare se fosse andato in acqua perché quel punto bisognava aprire il pacco di sopravvivenza in modo che il battellino uscisse di fuori eccetera perché cadere con tutto il pacco sotto sedere intero diciamo sotto scusate sotto come ho detto sotto il sedere che li faceva la cucina e avrebbe comportato dei problemi allora sono ho visto che a terra va a terra e sono andato giù sono arrivato a terra sono riuscito a cadere mi è andata bene bene alla distanza di circa qualche metro dal confine di una fattoria che era fatto di pali con dei pali di legno e del filo spinato e quindi ho evitato di cavalcare il filo spinato e di prendere i pali per altri motivi per proprio per poco c'era un cane e qui parte la parte romanzata diciamo della cosa c'era un cane che abbagliava e voleva venire a morsicarmi è arrivato dietro il padrone che era il contadino mi ha detto la prima cosa che mi ha chiesto il contadino è stato ma è vero che è caduto in aeroplano e io di dove si c'ero io sopra ah sì e quanti motori aveva questa è stata la domanda del contadino io intanto stavo recuperando il paracadute lo stavo raggruppando le cose che erano per terra quando ho visto arrivare un maggiorino fos baghen che era guidato dal figlio del ho saputo dopo naturalmente che fosse un figlio guidato dal figlio del contadino il quale entrato lì e io ed anche lui è venuto a vedere come mai padre era lì o cosa facevoli insomma è venuto lì anche lui e gli ho chiesto se avesse potuto darmi un passaggio fino in aeroporto perché da nella posizione in cui ero io vedevo tutto l'antirivieni del personale che si stava agitando per probabilmente per organizzare la ricerca in quanto io avevo azionato la radiolina d'emergenza avevo anche mi avevano avevo anche lanciato un messaggio a voce vocale in cui loro mi hanno sentito e hanno capito che ero vivo non si sapevano ancora dove fossi il figlio del contadino è venuto verso di me mi ha accompagnato verso la foswagen abbiamo messo paracadute nel portabagagli e sta davanti naturalmente e ha cercato di mettere in moto la macchina che non ha voluto saperne di ripartire anche ho detto proviamo così lui è rimasto ai comandi della macchina e io l'ho spinta finché il motore è andato è andato in moto questa è stata la parte così diciamo eccetera dopodiché siamo andati verso l'aeroporto durante questo piccolo viaggio perché sono stati 4 o 5 chilometri per fare il giro del mare poi poter arrivare in aeroporto si è aperto il portabagagli davanti un po fino al fermo ed è fuoriuscito il paracaduto il quale è venuto sul vetro sul parabrezza e non ci faceva vedere niente per cui lui ha preso la caduta da una parte con la mano così io dall'altra parte e lo tenevamo tutte e due come fosse avessimo delle briglie in mano mi guidava con una mano e siamo arrivati all'ingresso dell'aeroporto che come ci hanno visti hanno alzato la sbarra poi non erano convinti e l'hanno abbassata che a momenti ce la facevano ce l'abbassavano sulla macchina di cui ci mancava anche quello poi mi hanno dei mi hanno chiesto ma ha saputo che c'è stato un incidente che qui è caduto qualcuno e dico eccomi qua fermate tutto non cercatemi più perché sono qui dopo che di che il giorno dopo sono rientrato all'aeroporto di gioia colle col 6 208 che contravvenendo un po una regola che era quella volta che quando uno si lanciava non doveva volare se non aveva fatto prima la visita medica e controlli eccetera eccetera siccome se avevi sei 208 era lì ed era del 36 uno stormo io l'ho preso e me ne sono rientrato e sono rientrato in base così naturalmente mi è stato fatto osservare subito questo fatto dico io non mi sentivo al disagio per essermi lanciato non mi sono fatto niente sono rientrato lì quella è stata una notte di tre zenda perché c'è stato anche un morto perché un velivolo e decollato da trapani è andato su ed è venuto giù così e non si è più trovato e poi tutti tutti gli altri che sono stati dirottati avevano avuto la non dico la possibilità ma quasi il problema di dover avere un problema come mio insomma quello di doversi lanciare perché anche loro circuitando sulla suroca imperiale che avevano consumato carburante e quindi la maggior parte erano stati dirottati a grosseto e grossetto non è che fosse dietro l'angolo ma comunque ci sono arrivati tutto bene eccetera e la base era rimasta chiusa fino non è atterrato se non uno in emergenza che non poteva andare più da nessuna parte un velivolo è riuscito erano in coppia erano due velivoli il primo è atterrato il secondo ha riattaccato e poi ha fatto un circuito devi atterrato lo stesso ma senza vedere niente davanti hanno hanno avuto la fortuna di indovinare l'allineamento della pista il punto giusto della pista anche merito sicuramente del personale del gca che li aveva accompagnati fino all'atterraggio però la visibilità era proprio zero quasi quasi completamente zero si intravedevano e hanno detto solo le luci appena appena le luci le luci di testata vista insomma e questo è il mio racconto per quanto riguarda questo lancio una gran botta ma considerando poi che il lancio con il martin becca del 104 comporta un carico di 24 g che si distribuisce in tre parti per i primi 14 perché c'è il cannone che ha tre cariche esplosive per il lancio del seggiolino una volta che il seggiolino si è staccato dal cannone si apre un pacco razzi che c'è che c'era sotto al seggiolino stesso e si recuperavano altri 10 g però erano in progressione quindi 24 g non sono stati una botta iniziale eccetera però hanno fatto il loro hanno dato il loro piccolo fastidio che mi trascina un po dietro come tutti insomma generale appena per altri motivi quindi finisce questa avventura diciamo che finita lì io ho fatto la visita medica ho superato la visita medica sono rientrato al gruppo dove ho ricominciato a volare normalmente con le f 104 quindi eccetera